Il Dottor Hayden è all'interno del complesso. Questo campus è stato il quartier generale della Resistenza. Buone notizie! Quest'area ormai non è più sicura. Il protocollo di evacuazione è in corso. Il Dottor Hayden è in corso. Grazie a tutti. 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 L'Ark è distrutto. Si prega di evacuare. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.